hola ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono ixtrader e oggi siamo tornati su mccreator per un tutorial abbastanza importante ma molto breve infatti mi avete chiesto di spiegarvi come fare un minerale io ne approfitto per spiegarvi anche altre cose infatti un minerale non si compone solo di del blocco del minerale grezzo ma anche appunto del minerale lavorato che può essere appunto il diamante come il lingotto e vi dicendo ma anche il blocco di questo minerale lavorato e tutti quanti i crafting relativi e similmente potrebbe essere utile fare in modo molto veloce anche i vari strumenti di questo minerale l'armatura e tutto quello che ne concerne e infatti andremo a utilizzare uno strumento che sono i pack aggiunti nella versione 2020.1 di mccreator e li troviamo qua in alto questi quattro oppure su tools e sono qua questo qua crea tutto quello che riguarda il materiale quindi appunto l'oggetto il blocco dell'oggetto l'oggetto minerale grezzo gli strumenti tutti quanti e l'armatura mentre questo crea solo crea solo l'oggetto il suo blocco e il suo minerale con le ricette questo crea gli strumenti dell'oggetto e questo qua crea l'armatura dell'oggetto quindi adesso andiamo appunto a vedere uno per uno mettiamo ad esempio il nome lo chiamiamo uno scegliamo se è basato su una gemma come per esempio il diamante su una polvere come per esempio la redstone o su un lingotto come per esempio il ferro basiamo su una gemma scegliamo un colore base facciamo ok scegliamo la forza del pack che è relativa al ferro quindi uno equivale al ferro quindi sarà un oggetto come il ferro creiamolo e come vedete ci metterà un po' a caricare ma avremo sia il minerale sia il blocco sia la nostra gemma o l'oggetto e le tre ricette relative eventi creator andrà con questo procedimento non solo a creare questo oggetto in automatico ma appunto anche a settare tutti quanti i valori già di suo quindi metterà la texture e metterà anche per dire la durezza e la resistenza uguale a quelli della pietra metterà il nome e ogni altra cosa possa servire e poi ovviamente voi potete andare a modificare adesso vediamo anche gli altri tre pack c'è quello per armatura in questo caso dobbiamo scegliere l'oggetto base cioè il materiale che andremo a utilizzare per esempio potremo utilizzare la sandstone scegliamo il nome base dell'armatura il colore che andrà a selezionare già in base all'oggetto che sceglieremo ma che ovviamente potremo cambiare e appunto il power factor ancora una volta che si riferisce al ferro quindi se vogliamo che sia più forte del ferro mettiamo così crea armor pack e qui viene attaccato l'armatura con tutte le ricette e ancora una volta ha messo tutti quanti i valori in automatico andiamo a vedere invece il pack per gli strumenti quindi ancora una volta scegliamo l'oggetto questa volta scegliamo il magma block e lo chiamiamo magma ancora una volta scegliere quello in automatico e dobbiamo mettere il power factor per dire mettiamo due ed ecco fatto ho creato il piccone l'ascia la spada la pala e la zappa con il loro crafting infine l'ultimo pack più completo che crea tutto quello che può riguardare un nuovo materiale quindi armatura strumenti e blocchi e ovviamente anche i crafting relativi quindi scegliamo il nome del materiale perché se vogliamo fare una cosa fatta ai biscotti mettiamo il nome poi scegliamo se è una gemma una polvere o un lingotto scegliamo il colore e scegliamo il power factor crea un nuovo pack ci metterà più del solito perché appunto sta creando molte più cose ed ecco fatto abbiamo l'ore il lingotto l'oggetto tutti e cinque gli strumenti e l'armatura con tutte le ricette relative poi ripeto ancora una volta se non vi piace piacciono le texture andate a modificarle non è per niente difficile il tutorial è finito qui spero che il video vi sia piaciuta se avete domande richieste o qualsiasi altra cosa non esitate a chiedere nel gruppo telegram in descrizione o nei commenti se volete stare citati sul canale e sui nuovi tutorial che porterò iscrivetevi e attivate la campanellina o entrate nel canale che è in descrizione X-Tradar Burn grazie a tutti